Intanto questa sua sensibilità, ecco io sottolineerei soltanto questa Francesco e quel sorriso che vediamo ormai su tutti i network, che vediamo su tutti i siti online e sta a dimostrare questa sua grandissima sensibilità sociale, che lo ha portato a rischiare talvolta così come sta rischiando in questo momento, ma noi speriamo e siamo fiduciosi che questa vicenda si concluda positivamente. C'è grande apprezzione a Motta San Giovanni per la sorte di Francesco Azzarà, il giovane attivista di Emergency, rapito due giorni fa in Darfur. I familiari sono costantemente in contatto con la Farnesina. La speranza è che la situazione si possa evolvere al più presto naturalmente in positivo, dichiare i microfoni di RTV il sindaco del centro ionico Paolo Laganà, che del 34enne è anche parente. Una notizia ovviamente inaspettata che ha colto la nostra comunità con stupore. Ovviamente l'attesa è quella di poter riabbracciare Francesco. Non è uno qualsiasi Francesco Azzarà. L'intera comunità di Motta San Giovanni lo conosce e lo apprezza per le doti di grande altruismo che ha sempre dimostrato. Non è una sorpresa che si fosse spinto fino in una delle zone più calde del pianeta. Da Motta si è sempre spostato per raggiungere quei posti in cui c'è sempre bisogno di una mano d'aiuto. Ovviamente Francesco noi lo conosciamo, lo abbiamo, siamo stati sempre insieme, lo apprezziamo, apprezziamo questa sua disponibilità sociale che lo ha portato fin da giovanissimo a dedicarsi agli altri. E noi pensiamo che questa sua caratteristica possa consentirgli intanto di passare questo brutto momento e poi di poterlo riavere in famiglia e nella nostra comunità. Ragazzo, nonostante spesso lontano dalla terra natia, per rispondere alle richieste d'aiuto provenienti dalle zone più dimenticate del pianeta, tuttavia molto legato alla famiglia. Ed è proprio la famiglia, già in passato segnata da una grave perdita, a vivere in queste ore i momenti di maggiore angoscia, in attesa che possa al più presto giungere a una buona notizia e riabbracciare il proprio caro. La famiglia giustamente chiede il silenzio, così come lo ha chiesto e lo chiede la Farnesina, per agevolare la possibilità di una soluzione immediata di questa vicenda. Ha avuto modo di sentire i familiari? Sì, abbiamo sentito ovviamente la famiglia, i genitori sono comprensibilmente in una fase di sconforto e ripeto, loro ci chiedono di lasciarle in attesa, in una giusta attesa di poter avere una bella notizia. Ecco, vi chiediamo solo questo.